partiti Irish Flying si porta in vantaggio avendo all'esterno Frank Elbit che ora passa in leggero vantaggio in seconda posizione si profila Ferragust quindi Irish Flying con all'esterno Special Reason seguono senza ragione con all'interno Weaver of Life ed in coda Dichmond lungo la curva Frank Elbit prosegue in vantaggio tallonato da Ferragust e Special Reason poi Irish Flying ancora Weaver of Life Dichmond ed in coda senza ragione siamo ora in retta d'arrivo a 500 dal palo con Frank Elbit che si mantiene in vantaggio tallonato da Ferragust che ha all'esterno Special Reason poi Irish Flying e Weaver of Life a 200 dal palo Frank Elbit ha allungato nei confronti di Special Reason che prova l'inseguimento nel tratto finale però Frank Elbit è facile e si impone davanti a Special Reason al terzo posto Irish Flying su Ferragust andiamo a rivedere la facilissima affermazione di Salvo Basile in sella a Frank Elbit numero 4 dello schieramento a bersaglio in testa da un capo all'altro senza problemi al posto d'onore il 7 di Special Reason e al terzo posto conclude il 5 di Irish Flying quindi 4, 7, 5 il probabile e ufficioso arrivo della terza di Napoli grazie a tutti